Vietato a sbagliare, Mister Torrente ha le idee chiare, contro lo Spezia ci è voluta la zampata all'ultimo assalto di Masiello e giovedì il suo Bari ha balbettato contro i dilettanti del Biceglie, ma domani sera contro l'Avellino nel terzo turno di Coppa Italia l'imperativo è vincere. Per il match da dentro o fuori, in programma al San Nicola alle 20.45, l'allenatore Biancorosso non vuole cali di tensione. Esistono partite, indossi a maglia del Bari e devi dare il massimo sempre, ma questo i ragazzi lo sanno dal primo giorno. In gioco, oltre alla qualificazione, anche la possibilità di incontrare il Genoa nel prossimo turno, la squadra dove Torrente ha speso tutta la sua carriera calcistica. Non lo nego, ritornare a Marassi a casa per me sarebbe sì una bella cosa, anche se dobbiamo poi passare il turno con l'Avellino che non è una partita facile. Poi Mister Torrente si è soffermato sul mercato, la questione Mastronunzio è ancora appesa e servono almeno quattro innesti per potenziare la squadra. Purtroppo adesso la situazione è ancora ferma per quanto riguarda sia Mastronunzio, De Paola e poi c'è un tentativo, stiamo parlando con Bentivoglio, che è un giocatore, ho già detto prima, che mi piace, mi piaceva già da ragazzo quando giocavo con i ragazzi della Juve. La società sa benissimo, cercando di accontentarmi, questa squadra per me mancano quattro giocatori.